Scopriamo insieme perché il test per le tue campagne non è solo utile ma è essenziale per il successo delle tue campagne pubblicitarie. Immagina di essere uno chef che sta sperimentando una nuova ricetta. Prima di servire i tuoi ospiti vuoi essere sicuro che si sia delizioso, giusto? Ecco, nel marketing è la stessa cosa. Testare diverse creatività è come assaggiare il tuo piatto prima di presentarlo. Variare titoli, immagini o call to action può rivelare quale combinazione funziona meglio con il tuo pubblico, massimizzando l'impatto del tuo messaggio. Non mettere tutte le uova in un unico paniere. Utilizzando abitesting o test multivariati puoi scoprire quali stimano maggiormente le engagement, le conversioni o la fideltà del cliente. Ricorda, ogni pubblico è unico e ciò che funziona con un pubblico potrebbe non funzionare con un altro. L'unico modo per scoprirlo è imparare, testare e adattarsi. Quindi, prima di lanciare la tua prossima campagna chiediti Ho testato abbastanza le mie creatività? Seguici per altre pillole sul marketing.